Cortona si prepara ad ospitare la sesta edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Il festival che si svolge nel centro storico di Cortona, nella fortizia medicia del Girifalco, sotto la direzione artistica di Rihanna Rinaldo, è organizzato all'associazione On The Move. Fotografia in viaggio è il motto del festival che esprime la scelta di esplorare il linguaggio della fotografia attraverso la valorizzazione dell'eccellenza della fotografia contemporanea. Il viaggio è inteso come movimento scoperta e cambiamento interiore. Ogni anno il festival propone infatti un nuovo viaggio in mondi diversi e in situazioni da esplorare e cogliere mediante il linguaggio della fotografia. Le novità sono tre. Il progetto Europa fatto in collaborazione con Magnum e Aliquindoi che sarà praticamente un libro di 600 pagine scritto in quattro lingue, inglese, francese, arabo e farsi e illustrato con le fotografie dell'agenzia Magnum. Verrà stampato in 10.000 copie e distribuito gratuitamente ai migranti. Sarà una sorta di guida all'Europa per migranti. Questo è il progetto più importante che abbiamo. Dopodiché una collaborazione con Slow Food che si apre a Cortona il 16 di luglio grazie alla presenza di Carlo Petrini e poi un appuntamento molto importante con Massimo Brai, il direttore generale di Treccani, che viene a spiegarci come la cultura sarà il motore per far ripartire il paese. Cortona on the move diventa una delle manifestazioni di punta dell'estate cortonese e non solo perché la volontà dell'associazione è quella di prorogarla, allungarla per tutto il resto dell'anno attraverso numerosi progetti che verranno fatti in fortezza. Ormai Cortona ha questa vocazione e la deve mantenere. Partner dell'evento, Banca Popolare di Cortona, che ha permesso agli organizzatori di Cortona on the move di poter usufruire di alcuni locali all'interno della sede di Cortona. Abbiamo messo a disposizione del Festival on the move i locali molto belli, ristrutturati, che noi abbiamo risistemato. è come un regalo che noi facciamo alla città, chiunque vorrà usare in maniera chiaramente dignitosa, in maniera giusta questi locali, la banca li metterà sempre a disposizione.